Gli uomini del soccorso alpino scavano in un pozzo profondo 30 metri per rimuovere massi e detriti dal fondo. Il nuovo input all'inchiesta della procura di Palermo, archiviata e poi riaperta alla fine dello scorso giugno, verrebbe da alcune indicazioni date agli investigatori. L'ultimo collaboratore che ha detto di conoscere particolari sulla sorte dei Majorani è Vito Galatolo, ex capoclan dell'Acqua Santa. Nei mesi scorsi le rusperano entrate in azione nei pressi di Via Ercole e di Via Agnelleria, incontrata a Serra Cardillo. Scavi e ricerche senza esito. Sarà solo una coincidenza, ma proprio Villa Grazia di Carini era la zona dove sarebbero stati agganciati i telefonini di Majorana. Secondo gli accertamenti svolti dall'avvocato Giacomo Frazzitta, legale dell'ex moglie e madre degli scomparsi Rosalia Cardo, le celle telefonico coincidevano con i tracciati telefonici di Majorana. E già diversi mesi fa, quella seconda illegale, era l'area dove concentrae le ricerche, che però non hanno mai avuto alcun esito. Sono stati svolti diversi scavi, invece, nel cantiere di Isolaelle Femmine, dove Majorana stavano costruendo un residence da oltre 7 milioni di euro con la società Calliope.